Nello sforzo di cercare qualcosa di buono che questo periodo di emergenza sanitaria può aver portato, la pace tra il Comune di Arezzo e il Polo Fieristico è indubbiamente nella lista. È infatti stata approvata con 28 voti favorevoli in Consiglio Comunale un'operazione presentata dall'assessore al bilancio Alberto Merelli che di fatto risolve una cherelle lunga diversi anni in cui molti sindaci hanno sbattuto il naso. Il credito tributario vantato dal Comune di Arezzo nei confronti di Arezzo Fiere e Congressi 3 milioni di euro e spiccioli viene di fatto compensato dall'accessione dell'auditorium al Comune di Arezzo. La valutazione di questi spazi che solo pochi mesi fa hanno visto ospitare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una sfilza di ministri e sottosegretari oltre alla maggior parte dei sindaci d'Italia per l'assemblea annuale di Anci passeranno dunque di proprietà all'ente. Valore 1 milione 680 mila euro. La differenza di poco meno di un milione e mezzo tra questa cifra e i crediti tributari vantati dal Comune viene compensata mediante un aumento riservato al Comune di Arezzo di quota capitale nella società di Arezzo Fiere Congressi. L'altro aspetto originato da una convenzione del 2006 che prevedeva l'impegno di Arezzo Fiere Congressi a versare un milione e due al Comune per le opere di viabilità con l'obbligo da parte dell'ente di conferire al polo fioristico l'ex Campo Scuola viene risolto con un aumento di capitale da parte del Comune di Arezzo valutato in 150 mila euro. Questo è il valore stimato per l'area che passa di fatto ad Arezzo Fiere Congressi. Complessivamente la partecipazione del Comune di Arezzo nella compagine societaria passa dall'11,2% al 17,88%. Il Consiglio approva con 28 voti favorevoli.